Ardesio sta entrando in clima natalizio, un contributo decisivo in questo senso lo darà sabato la nona edizione di Natale in Contrada. Quasi tutto pronto? Allora sì esatto, quasi tutto pronto. In questi ultimi frangenti le contrade stanno allestendo il proprio angolo oppure diciamo la propria zona delimitata decisa per questa nona edizione di Natale in Contrada. Le contrade che partecipano sono otto e naturalmente l'obiettivo più importante è quello che ci troveremo il paese addobbato a festa con un vero e proprio clima natalizio. Esattamente la cosa più importante è che Natale in Contrada è un palio diciamo dedicato alle contrade del paese a tema natalizio. Quindi ovviamente il grande risultato sarà quello di trovarci davvero il paese in una perfetta situazione natalizia e davvero invitiamo tutti a venire a vedere le installazioni da sabato, sabato 17 di dicembre fino al 6 di gennaio. Infatti le contrade hanno l'obbligo di mantenere allestita la posizione fino al 6 di gennaio. Questa nona edizione sicuramente avrà qualche chicca da rappresentare ancora. La giuria passerà sabato pomeriggio dalle 16 fino alle 20 per fare una valutazione di quello che è il lavoro migliore. Però naturalmente come Proloco ci teniamo a ricordarlo. A ricordarlo davvero ogni anno non è importante chi vince. L'importante è lo spirito partecipativo perché la comunità dà una mano all'amministrazione comunale e alla Proloco per abbellire e addobbare l'intero paese di Ardesio per questo Santo Natale 2016. La Proloco ci ha messo del suo anche quest'anno, ha voluto regalare alla popolazione l'albero di Natale che è stato installato nella rotonda davanti alla sede della Proloco e abbiamo voluto anche illuminare gli archi che contraddistinguono proprio la sede della nostra Proloco a piano terra del Palazzo Comunale. Questo è il lavoro che quest'anno la Proloco di Ardesio ha voluto pensare. Non abbiamo creato un vero e proprio angolo natalizio come gli altri anni perché quest'anno ci siamo davvero superati. Ma questa è un'altra storia, ve ne parleremo più avanti. Abbiamo creato davvero una mostra fotografica, ricordi davvero coi fiocchi. Ma questa è, come detto prima, tutta un'altra storia. Quando si saprà chi ha vinto l'edizione 2016? Allora, lo sapremo subito sabato sera al termine della visione del film che la Proloco di Ardesio intende come ogni anno offrire alla popolazione. Quindi sabato sera appuntamento presso il Cineteatro dell'Oratorio di Ardesio dove gratuitamente ci sarà la visione del film Santa Claus, uno dei classici della Walt Disney del 1994 e lo facciamo proprio perché in concomitanza quest'anno, nel dicembre di quest'anno, e c'è il cinquantesimo della scomparsa del grande luminario Walt Disney. E quindi per restare in tema con Natale faremo vedere Santa Claus, però davvero anche per ricordare questo mito della cinematografia internazionale.